In maniera molto discreta, come è giusto che sia, le forze armate italiane si preparano al G7 di giugno per contribuire a dotare l'area interessata di quella cornice di sicurezza indispensabile al sereno svolgimento del summit. Se la brigata Pinerolo dell'esercito è già presente nella zona di Fasano e l'aeronautica militare sta affinando le regole operative di controllo dello spazio aereo con gli F-35 di Amendola, liefa di Gioia del Colle, anche la marina militare sta predisponendo le unità navali che saranno impegnate nel mare Adriatico in collaborazione con altri assetti alleati. In questo senso si dovrebbe inquadrare la presenza in rada a Taranto di un'unità navale abbastanza inconsueta da queste parti in quanto stanziata nella base di La Spezia. Eccola, il suo nome Elettra ci introduce ai suoi compiti che vengono definiti riservati una nave che non ha a bordo cannoni o missili ma ha sofisticate apparecchiature elettroniche. Secondo gli analisti è una nave SIGINT, cioè in grado di svolgere l'attività di raccolta di informazioni mediante l'intercettazione, analisi di segnali radio, radar, quali quelli utilizzati per le comunicazioni, i sistemi di difesa aerea o per la guida di missili. Nulla insomma viene lasciato al caso. L'Italia, la Puglia e il Salento dovranno fare una bella figura a livello mondiale. Il tema della sicurezza nella particolare contingenza internazionale come si comprenderà è essenziale. Sul tema poi dell'aeroporto che potrebbe ospitare gli aerei che trasporteranno i capi di Stato, occhio alle ricostruzioni di fantasia. Se l'aeroporto di Bari, congestionato com'è da tanti voli civili, sarà in posizione di riserva, in prima linea restano brindisi e grottaglie a pochi minuti di volo dagli eliporti che sono stati realizzati in prossimità di Borgo Ignazia. Poi orari, modalità e scelte di percorso dovranno restare informazioni, come si dice in gergo, classificate ed è giusto che lo siano.